allora spero risolvendo questi problemi di essere di aiuto a qualcuno dal momento che per risolvere dei problemi di questo tipo cioè facendo dei calcoli mentali e quindi senza utilizzare formule senza utilizzare penne calcolatrici eccetera è evidente che ogni persona ha il suo metodo per arrivare a sviluppare diciamo un modo per risolvere ciascuno di questi problemi quindi non è detto che vengano utilizzati gli stessi procedimenti per problemi simili e anche dalla stessa persona quindi volta per volta ci si inventa una strategia diversa allora quindi non si tratta tanto di metterci più tempo o meno tempo ma il problema è quello di essere sicuri che comunque la soluzione trovata sia rispondente al sia valida insomma e avere quindi dei criteri per controllare quello che si sta facendo bene allora iniziamo dal primo qual è il volume millilitri corrispondente a un ventesimo di litro e poi abbiamo anche che un litro è fatto di mille millilitri quindi credo che qui non ci siano molte molte strategie semplicemente si tratta di trovare quant'è un millilitro cioè quant'è un ventesimo di mille millilitri un ventesimo di mille allora per esempio possiamo prima dividere per due e poi dividere per 10 oppure prima dividere per 10 e poi dividere per due quindi se facciamo prima diviso 10 abbiamo 100 millilitri e poi dividiamo per due e abbiamo trovato il ventesimo e quindi sono 50 millilitri quindi scriviamo solo la soluzione 50 millilitri corrispondono a un ventesimo di mille millilitri cioè un ventesimo di litro il numero 2 qual è la frazione di litro il contrario questa volta abbiamo un volume 750 millilitri e dobbiamo trovare che frazione è rispetto al litro allora diciamo che 70 750 su mille corrispondono a 75 su 100 questo potrebbe essere un modo facile per chi è abituato a diciamo visualizzarsi le percentuali 25 50 per cento 75 per cento e così via modo più semplice quindi si tratta del 75 per cento di litro cioè i 75 centesimi 75 centesimi corrispondono anche ai tre quarti di un litro quindi scriviamo per questa è la frazione tre quarti di un punto 3 abbiamo un matraccio da 100 millilitri viene portato a volume da un matraccio da mille che è già stato portato a volume quindi abbiamo un volume di soluzione mille millilitri esatti da cui preleviamo 25 millilitri la frazione che noi abbiamo prelevato nel volume iniziale corrisponde a 25 parti su mille ora come nel problema precedente sappiamo che 25 parti su 100 corrispondono a un quarto quindi sarebbe un quarto se avessimo prelevato 25 millilitri da 100 ma siccome li abbiamo prelevati da mille e allora questo è un quarantesimo una parte su 40 questa è la frazione il numero 4 da un matraccio portato a volume da 500 cioè mezzo litro 500 millilitri e mezzo litro si preleva un ventesimo del volume qual è il volume che rimane il volume che rimane sarà a 500 millilitri meno un ventesimo cioè 19 ventesimi di 500 allora dobbiamo trovare quant'è un ventesimo di 500 facciamo come il primo problema per trovare un ventesimo facciamo prima diviso 10 che sono 50 e poi diviso 2 che sono 25 quindi abbiamo prelevato semplicemente 25 millilitri da 500 e perciò ne saranno rimaste rimasti 475 nel problema numero 5 abbiamo che 10 millilitri di soluzione sono stati prelevati con una pipetta a bolla e questi 10 sono stati diluiti fino a 500 quindi da 10 a 500 chiaramente in un matraccio da mezzo litro perché 500 millilitri infatti sono mezzo litro allora qual è stato il fattore di diluizione della soluzione cioè di quante volte è stata diluita da 10 a 500 e come dire da 1 a 50 e quindi è stata diluita di 50 volte cioè il 10 nel 500 c'entra 50 volte quindi abbiamo una soluzione dopo la diluizione che avrà una concentrazione 50 volte inferiore dovremmo dividere per 50 la concentrazione iniziale per trovare la concentrazione finale nel 6 l'acqua di mare ha una concentrazione del 3,3 per cento si prendono 200 millilitri di soluzione e si fanno evaporare fino al volume di 20 questo significa che come fatto nel problema precedente ci troviamo il fattore di diluizione che questa volta è un fattore di concentrazione perché avendo tolto l'acqua la soluzione ridotta da 200 a 20 millilitri sarà questa volta più concentrata e non più diluita e il rapporto di concentrazione della concentrazione finale rispetto a quella iniziale sarà di 20 volte di 10 volte più concentrata perché abbiamo concentrato di un fattore 1 a 10 cioè da 200 il volume si è ridotto a un decimo quindi non facciamo la differenza facciamo quante volte 20 è più piccolo di 200 è 10 volte più piccolo quindi ho concentrato la mia soluzione di 10 volte e se all'inizio era al 3,3 per cento evidentemente in volume perché qui abbiamo solo il volume sarà diventata del 33 per cento cioè 3,3 per 10 che fa 33 per cento più concentrata perché appunto abbiamo eliminato i nove decimi dell'acqua è rimasto soltanto un decimo del volume di soluzione una aliquota di soluzione nel 7 è 0,1 0,100 molare di cloruro di potassio e questa aliquota cioè questa quantità di soluzione che non sappiamo quant'è sappiamo solo la concentrazione che 0,1 moli al litro perché 0,1 molare significa 0,1 moli al litro contiene un ventesimo di mole quindi in questa aliquota non sappiamo il volume quant'è questa questa porzione di soluzione non conosciamo il volume ma sappiamo che lì dentro c'è un ventesimo di mole di unità di soluto e unità di cloruro di potassio evidentemente qual è il volume di questa soluzione bene allora se un ventesimo di mole è chiaramente di meno di 0,1 molare perché 0,1 moli in un litro sono 0,1 moli che stanno in un litro lo leggiamo un decimo di mole in un litro questa volta qualcosa lo scriviamo la soluzione contiene un decimo di mole al litro quello che noi abbiamo prelevato invece cioè quello che abbiamo nella nostra porzione di soluzione è diciamo inferiore a questo decimo di mole perché è invece un ventesimo di mole allora dobbiamo ci troviamo adesso a confrontare questi due numeri un decimo contro un ventesimo di mole complessivamente quindi qui non ci interessa adesso il fatto che sia al litro ci interessa sapere che questo decimo di mole che starebbe in un litro è il doppio di un ventesimo di mole quindi noi sappiamo che abbiamo la metà un ventesimo di mole uguale metà della del numero metà delle moli in un litro per avere metà delle moli che stanno in un litro significa che noi abbiamo mezzo litro per cui possiamo implicare che abbiamo mezzo litro metà litro metà di un litro questo è il motivo per cui abbiamo un ventesimo di mole anziché un decimo di mole dobbiamo sapere bene che un ventesimo è la metà di un decimo andiamo all'otto qui vediamo che stanno diventando un pochino più complessi in due litri di soluzione di glucosio è contenuto un numero di avogadro di molecole di soluto questo tanto complesso non è perché quando ci viene detto che un certo volume di soluzione contiene un numero di avogadro di molecole noi traduciamo istantaneamente il numero di avogadro di molecole con una parola più semplice che è una mole quindi noi sappiamo che abbiamo una mole in due litri e allora se abbiamo una mole in due litri significa che avremo metà mole in un litro quindi la molarità sarà 0,5 cioè la metà di 1 moli al litro e questa è la risposta andiamo al 9 il peso formula del glucosio è 180 quanti grammi di glucosio ci sono in 50 millilitri della soluzione del precedente esercizio bene noi sappiamo che un litro sono mille millilitri innanzitutto e quindi ora non abbiamo più né due litri né un litro ma 50 millilitri e allora se abbiamo 50 millilitri se abbiamo 50 millilitri abbiamo un ventesimo di litro perché il 50 nel mille c'entra 20 volte esattamente come il 5 nel 100 c'entra 20 volte il 5 nel 10 centra due volte per altri 10 arriviamo a 20 quindi abbiamo quindi un ventesimo di litro siccome un litro conteneva 0,5 moli dobbiamo fare a mente quant'è la la ventesima parte la ventesima parte di 0,5 moli quindi facciamo il contrario dei primi esercizi e per trovare un ventesimo di qualcosa prima facciamo un decimo e quindi un decimo di 0,5 moli è 0,05 e poi dividiamo ulteriormente per due questo decimo per arrivare al ventesimo quindi abbiamo 0,025 che è la metà di 0,05 quindi noi sappiamo che abbiamo 0,025 moli allora per trasformare questa cosa in in grammi ci conviene ci conviene ci conviene ripartire dal dal peso formula del glucosio perché altrimenti dovremmo fare una moltiplicazione per 0,025 e questo ci fa fondere il cervello allora ripartiamo dai 180 noi sappiamo che in un litro abbiamo la metà di 180 grammi cioè 90 grammi abbiamo 90 grammi in un litro e in 50 millilitri va bene ci troviamo prima quanti grammi abbiamo in 500 millilitri cioè la metà di un litro abbiamo 90 grammi in un litro e abbiamo 45 grammi in mezzo litro ora 50 millilitri sono la decima parte di mezzo litro quindi i nostri 45 grammi di mezzo litro diventano 4,5 grammi che stanno in 50 millilitri abbiamo fatto un giro iniziale più lungo che non ci portava da nessuna parte abbiamo cambiato il punto di partenza dividere 180 in sostanza per anzi dividere 90 per 20 abbiamo diviso 90 per 20 come dividendo 90 per 2 45 poi per 10 fa 4,5 quindi non abbiamo sbagliato di sicuro nel 10 a 20 grammi di idrossido di sodio si aggiunge acqua e questo ha peso formula 40 quindi che cosa vediamo già confrontando questo 40 che sono anche i grammi di una mole quindi la massa di una mole è 40 grammi e noi abbiamo 20 grammi quindi non andiamo cercando formule qui ci viene detto chiaramente che abbiamo mezza mole perché se abbiamo 20 grammi e una mole ne pesa 40 abbiamo mezza mole quindi perché complicarci la vita con le formule se già sappiamo che abbiamo mezza mole allora questa mezza mole di idrossido di sodio aggiungiamo acqua fino al volume di 250 millilitri come già sappiamo 250 millilitri rappresentano un quarto di litro quindi noi abbiamo mezza mole in un quarto di litro per trovare la molarità dobbiamo vedere le moli che stanno al litro intero quindi se abbiamo mezza mole in un quarto di litro avremo una mole in mezzo litro e quindi avremo due moli in un litro intero quindi la soluzione è questa la mezza mole la dobbiamo moltiplicare per quattro per avere per avere il numero di moli che si trova in un litro per quattro perché abbiamo visto che 250 millilitri è la quarta parte di un litro nel numero 11 che non è l'ultimo abbiamo 12 bene nel numero 11 abbiamo un matraccio tarato da 250 millilitri quindi il solito quarto di litro non dobbiamo pensare che queste sono delle facilitazioni per obbligarci a fare i calcoli a mente è la realtà del laboratorio di chimica dove si trovano matracci da mezzo litro si trovano matracci da un quarto di litro e si trovano matracci da un decimo di litro e così via i numeri che si devono utilizzare praticamente sono proprio questi quindi non sono delle semplificazioni quindi questo matracci da un quarto di litro contiene acido clodidico ad una mole al litro esatta e andiamo a prelevare 50 millilitri di soluzione con una pipetta bolla quindi stiamo prelevando 50 millilitri cioè un quarto del contenuto di questo matraccio che è un quinto anzi del contenuto di questo matraccio 50 millilitri sono la quinta parte di 250 ossia 50 per 5 fa 250 e che cosa dobbiamo trovare calcolare quante moli di acido clodidico ci sono nella soluzione prelevata e quindi ce ne saranno un quinto di quelle che c'erano nel matraccio intero da 250 nel matraccio da 250 c'erano la quarta parte delle moli che stanno in un litro perché questa soluzione 1 molare contiene una mole al litro quindi 250 sono un quarto di uno cioè 0,25 abbiamo prelevato cioè nella soluzione ci sono 0,25 moli un quarto di mole di questa quantità ne preleviamo un quinto quindi dobbiamo trovare la quinta parte di 0,25 0,25 sono 25 centesimi di mole e di questi ne prendiamo un quinto un quinto di 25 sono 5 centesimi di mole quindi quello che abbiamo prelevato nella soluzione prelevata sono esattamente 5 centesimi di mole 5 centesimi in matematica si scrive 0,05 moli B il volume di soluzione rimasta nel matraccio non è che ci voglia tanto perché se dal matraccio che era da 250 io ne ho prelevati 50 ci saranno rimasti 200 millilitri quindi questa è una domanda insomma abbastanza banale sono rimasti 250 meno 50 che fa 200 la molarità della soluzione rimasta nel matraccio e questa è veramente ancora diciamo una domanda quasi offensiva ovviamente la molarità della soluzione rimasta nel matraccio sarà uguale a quella che c'era prima cioè 1,000 molare oppure scriviamo moli al litro per ricordarci che cosa significa questo M questa molarità allora ultimo problema semplice si prelevano 25 millilitri di soluzione 1 molare abbiamo ancora la soluzione 1 molare questa volta di NaClClururo di sodio ci viene dato il peso formula e questi vengono diluiti a 500 quindi abbiamo un fattore di diluizione da 25 a 500 il 25 nel 50 c'entra 2 volte quindi nel 500 c'entra 20 volte stiamo diluendo di 20 volte e infatti ci viene chiesta qual è la concentrazione della soluzione diluita se noi abbiamo diluito a un volume 20 volte maggiore la concentrazione sarà un ventesimo di quella iniziale quella iniziale era 1 molare esattamente una mole al litro e quindi quella finale sarà un ventesimo di 1 e un ventesimo di 1 facciamo prima la metà di 1 che è 0,5 e poi ci mettiamo un altro 0 per trovare anche la decima parte della metà cioè la ventesima parte di 1 che è 0,5 moli al litro questa è la soluzione diluita poi quante sono le millimoli di NaCl prelevate? bene, le millimoli di NaCl prelevate essendocene una saranno una nel litro in 25 millilitri dobbiamo che ogni millilitro contiene una millimole quindi forse il metodo più semplice per fare questa parte è di considerare la molarità non in la molarità iniziale perché stiamo parlando del prelievo quindi quando ancora la soluzione non era stata diluita allora la soluzione iniziale conteneva una mole per ogni litro ma contiene anche un millesimo di mole in un millesimo di litro il millilitro non ci dimentichiamo è il millesimo di litro quindi abbiamo un millesimo di mole per ogni millilitro che lo ripetiamo 25 volte perché abbiamo prelevato 25 millilitri quindi avremo 25 millimoli nei 25 millilitri del prelievo ci sono 25 millimoli in 25 millilitri e infatti il rapporto tra le millimoli e i millilitri da 1, cioè 1 molare la concentrazione è rimasta sempre quella questa è la risposta e questa è la conclusione della serie dei problemi di nuovo spero che questi siano utili a qualcuno è la risposta e la risposta e la risposta